le cattive notizie non finiscono mai o come far fronte al dolore di maurizio bisogno tratto dal volume la filosofia e la vita di maurizio bisogno preambolo il dolore è una condizione permanente dell'esistenza e ormai questo lo sappiamo quello che non sappiamo tanto bene è come comportarci di fronte al dolore dobbiamo forse negarlo con una qualsiasi forma di narcotico ma ciò non sarebbe come se negassimo il vivere l'esistere il punto è che si crede di impazzire quando il dolore è forte un piccolo analgesico non ci starebbe male ma l'analgesico riporta alla soefazione alla dipendenza e ad altre conseguenze al sistema digestivo al sistema nervoso d'altronde il dolore sia fisico che mentale è insopportabile quando ci poniamo da una postazione di lotta contro di esso ma se scopriamo come accettarlo allora diventa parte di noi e impariamo a viverlo meglio torniamo al titolo di questo articolo e chiediamoci banalmente ma che cosa sono le cattive notizie tanto per fare un esempio potremmo iniziare col dire che sono notizie di cose che non vanno come vorremmo eventi che negano la nostra attesa che mettono in pericolo la nostra esistenza e ci procurano dolore e suscitano invidia per gli altri che non vivono la stessa pena quindi ci viene naturale chiederci come si affronta una cattiva notizia con il ragionamento al che subito ti dici sì facile a dirsi in effetti è proprio molto meno difficile di quanto sembri a prima vista ecco ti metti in ascolto di te stesso del tuo corpo entri con la tua mente nel dolore stesso poi inizi a ragionare è questo dolore veramente insopportabile sì lo è quindi provi a descriverlo per esempio un forte mal di testa fitte lancinanti non riesci a pensare a stare fermo la mente si agita e non sa cosa fare si sente attaccata minacciata da qualcosa vorresti fuggire istinto di fuga ma non c'è posto dove potresti andare e poi di nuovo le fitte ritornano come scariche di mitra e ti buttano giù si infiacchiscono e vinto da tale debolezza del corpo vorresti solo svanire ma poi pensi a chi ti è vicino pensi alla loro vita senza di te pensi al loro amore per te e al tuo per loro non puoi lasciarti andare non vuoi sono loro che ti trattengono a questo punto scopri che quel dolore non è più tenebroso oscuro ingiustificato ma viene per parlarti per dirti delle cose che contano nella vita un dolore che ti svela le tue relazioni con gli altri con esseri viventi e cose con cui sei strettamente intrecciato ti fanno vivere e che tu fai vivere il dolore ci rivela dunque le relazioni in cui siamo immersi per scelta o perché è lì semplicemente che ci troviamo in un centro di connessioni parte di una rete di altri centri di relazione il dolore è assolutamente insopportabile quando ci sentiamo completamente soli isolati disconnessi da qualsiasi relazione col mondo questa coscienza dell'essere immersi in una rete di connessioni nel mondo pur non facendo scomparire il dolore lo trasforma in un qualcosa che ci sentiamo in grado di affrontare ce lo umanizza rendendoci capaci di cercare forme di vita che riescano ad alleviarlo non ne siamo più spaventati inorriditi atterriti immobilizzati anzi attraverso questa nuova prospettiva attraverso questo suo conoscerlo ci sentiamo spinti ad agire in funzione delle nostre relazioni con gli altri un dolore che sia stato sottomesso a questa indagine della ragione non scompare ma ci spinge ad essere migliori quel dolore non è una pena inflitta per espiare una colpa non è una punizione a quel dolore siamo noi qui esistenti in questo mondo vivi non c'è essere umano che prima o poi non faccia esperienza del dolore ed è per questo che dobbiamo imparare a conoscerlo infatti è proprio conoscendolo che sveliamo a noi stessi la nostra natura continuamente alla ricerca di una dimensione di assenza del dolore e può solo raggiungere in maniera temporanea e mai strutturale cioè non si può cambiare la nostra natura di essere umani ma è necessario conoscerla per attraversare questa vita con quella consapevolezza che a sua volta ci impedisce di impazzire il che significa che non riusciamo a non farci schiacciare dal dolore stesso perché la follia e la vittoria del dolore sulla mente e il cuore in questa consapevolezza di appartenere di far parte della umana specie la cui esistenza implica l'essenza di un piacere permanente ripeto in questa consapevolezza di appartenere di far parte della umana specie la cui esistenza implica l'assenza di un piacere permanente ci apriamo un cammino il nostro cammino peculiare scogitiamo il nostro vivere accettiamo quella parte del destino che ci è data e costruiamo quella parte che ci tocca ci prefiggiamo quindi un compito che riprende il compito iniziato da altri in passato e che non finirà con la nostra esistenza personale perché allo stesso modo in cui non si può eliminare completamente il dolore dall'esistenza senza eliminare la vita stessa così il nostro compito non sarà mai definitivamente completato ma sarà sempre ripreso da qualcun altro e portato ad uno stadio successivo o consolidato ma mai ultimato in tale rinnovarsi perenne del compito dell'uomo in questo mondo il dolore è solo una guida che ci forza a pensare il senso dell'essere qui e ora a pensare il senso dell'uomo in questo mondo il dolore è solo una